Un mese e mezzo di ordinaria follia ragazzi Allora, è tutto partito da Juventus-Inter alla fine Juventus-Inter, Juventus-Napoli, Juventus-Milan Tre partite regolari dove alla fine la gente ha parlato di tre partite irregolari Che poi analizzando gli episodi Se guardiamo una squadra che è stata sfavorita è stata la Juventus Poi ad esempio su Juventus-Milan che tutti mi dicono Rigore al 95esimo e quant'altro Io mi ricordo ad esempio in Supercoppa Italiana Un rigore non dato alla Juventus per fallo di mano al 120esimo Ma lì tutti zitti, comunque ai tempi sulle ventali eravamo ovviamente Comunque, appunto, tre partite regolari, definite irregolari Campagna mediatica vergognosa Senza parlare dopo Juventus 3-Napoli 1 Dirigenti a Napoli, tesserati, tifosi Giornalisti come Variali, come Pistocchi, come Ziliani Sono sempre loro tre alla fine, la maggior parte Poi siamo arrivati, dopo queste tre partite Siamo arrivati ad ora Prima di parlare dell'argomento principale che sappiamo tutti Si parla adesso delle ammunizioni pilotate nazionali, degli infortuni pilotati La Juventus è una squadra europea, non italiana, europea Che dà più nazionali in giro per il mondo Ed è normale che magari possono essersi più infortuni, più squalifiche Mi sembra una cosa normale Però nessuno si lamenta di Reina che è tornato anzitempo a Napoli Come mi sembra anche con i barri, non vorrei dire una cazzata Insomma, alla fine quando si parla di Juventus Se poi guardiamo anche l'Atalanta Aberiscia, Conti e Caldarra fuori Però nessuno gli rompe il cazzo Perché ovviamente è l'Atalanta, non è la Juventus Comunque, a parte questo Arriviamo anche alle nazionali Comandiamo anche le nazionali Comandiamo i nostri giocatori anche nelle nazionali E poi nessuno dice un cazzo Se l'Argentina ha deciso di tenersi comunque Di Bala Mezzo infortunato anche per martedì Vedere se riescono a recuperarlo e quant'altro Se fosse veramente come dice certa gente Senza alcun problema Noi insistevamo, come fanno altre società Non faccio i nomi Per farlo ritornare a casa il prima possibile Detto questo Arriviamo al club Al fatto dell'andrangheta Al fatto del caso Biglietti Dove la FGC deferisce la Juventus Agnelli e alcuni dirigenti Prima Due giorni prima Dalla Procura di Torino Era stata addirittura assolta Dove alla fine aveva detto Che i tesserati, i dirigenti della Juve Erano parte lesa Non erano colpevoli di nessun atto criminale Per quanto riguarda l'ambito ordinario Non avevano a che fare con nessun draghettista Non avevano a che fare con l'andrangheta La FGC deferisce i dirigenti della Juventus Compreso Andrea Agnelli Poi alla fine succede il casino mediatico Come sappiamo Consigliani e Pistocchi su di tutti Poi no, non fomentano l'odio Poi vai in giro per gli stadi Ti gridano mafioso Draghettista e quant'altro Ma non sono loro a causare tutto questo Figurati Perché Se poi dopo la FGC Andiamo all'antimafia L'avvocato della Juventus va all'antimafia E di fatto ci sono delle intercettazioni Che Pecoraro ha deferito La Juventus e Agnelli E gli altri dirigenti Con queste intercettazioni Che poi Andrea Agnelli Non c'è in queste intercettazioni Va bene Già qua vi fa capire Poi anche appunto Alcuni commissari dell'antimafia Hanno detto sta cosa Hanno detto Ragazzi Noi non abbiamo queste intercettazioni Quindi che cazzo facciamo Desecretiamo gli altri atti Vediamo se ci sono Hanno guardato 5.000 pagine Di intercettazioni Non ci sono intercettazioni Che ha riportato Pecoraro Quindi O ha mentito Cosa che poi non è del tutto vera O ha sbagliato persona Ed è comunque una cosa abbastanza grave Il giorno dopo cosa succede? In tutto questo I media stanno zitti Perché Sono smentiti Giorno dopo giorno Il giorno dopo cosa succede? Che Il direttore generale Della FIGC Uva Dice praticamente All'antimafia Di occuparsi di altro Che queste non sono cose Gravi Che alla fine Hanno creato Un caso mediatico Contro la Juventus Cosa che alla fine I differimenti Non li ha fatti Di certo L'antimafia Ma li ha fatti Li ha fatti La FIGC Contro la Juventus Quindi non so Quanto Siano veritieri Queste parole Detto questo Dopo tutta questa cosa Interviene anche la Gazzetta O Sport Intervengono altri media E quant'altro Definendo Uva Irresponsabile Definendo che alla fine Non è stato Un caso mediatico Quando invece Sappiamo che è stato Un caso mediatico Insomma si stanno attaccando Stampa Uva FIGC Antimafia Ma di tutto Il marasma generale Passa inosservato Una cosa sola Che dovrebbe essere Quella Che dovrebbero fare i titoloni Che la Juventus È innocente Che la Juventus Non ha avuto a che fare Con i draghetisti Che poi Che poi Dominello Che è quello Indagato per i draghetta Non ha appunto Ancora processato Per essere stato Un boss mafioso Quindi Sono sempre Il problema Che i giornalisti Non usano più il condizionale Questa cosa Li frega parecchio Perché Una delle prime regole Del giornalismo È usare sempre il condizionale Se non ci sono Ancora sentenze Usare Non usare il condizionale Significa che tu Hai la certezza Di scrivere puttanate Questa è la verità Perché Come ha detto Anche Il parlamentare Del PD Appunto Che fa parte Del comitato antimafia Ha detto Purtroppo i giornali In media Hanno spinto Su un caso Non sui biglietti Non sul caso biglietti Che è una cosa Che abbiamo Diciamo Sottolineato Anche noi Hanno sottolineato Anche i dirigenti Della Juventus Presidente in testa Che è una cosa Che è vera Cioè Che si vengono Venduti più biglietti Rispetto al consentito A persona Ai capi ultras Cosa che fanno Tutte le società di calcio Lo stesso Lo stesso Appunto Parlamentare Ha detto Queste cose Ci sono sempre state Ci sono sempre state Semplicemente Perché le forze dell'ordine E le istituzioni Non tutelano le società E questo è un dato di fatto Però ripeto Questo passa inosservato Passano invece La gente purtroppo Ecco Quello che stavo parlando Anche con i miei colleghi Insomma Di tifo Che poi la gente Non Anche se Cosa che è ormai certa La Juventus Dovesse passare pulita Come per il doping La gente Non Guarderà le sentenze Questa è la cosa grave La gente Per noi Per la gente In generale Per il populismo La Juventus È doppata Dal 96 97 È stata doppata E se dicono Che non è stata doppata Perché è caduto Tutto in prescrizione Cosa errata Perché la Juventus In secondo grado È stata assolta Quindi Queste sono cose Che Vabbè La stessa cosa Succederà Come è successo Per Farsiopoli Sentenze che poi Hanno sì Retrocesso la Juventus Che poi però Nel procedimento Il processo ordinario Hanno smentito Un po' Tutta la cupola Che veniva Hanno fatto un po' Cadere il castello Stessa cosa Succederà adesso Se la Juventus Dovesse essere assolta Non Appunto Non essere provato Che contattava Boss E quant'altro Cosa che Appunto Ve l'ha dimostrato Sicuramente Per il populismo Per i media Ziliani Pistocchi Su tutti Tu passerai come Un draghetista Ok Questa è la verità È inutile Cioè noi anche Purtroppo Chi vince Dà fastidio Questo lo sappiamo tutti Chi vince Dà fastidio E devono buttare fango Sempre e comunque Purtroppo La gente Non prenderà le sentenze Prenderà il fango Che è stato buttato E questo Si chiama Fomentare Odio E stigazione alla fiorenza Cari giornalisti Detto questo Concludo Tanto per farvi È stato Tanto per farvi Un po' Il riassunto Di questo mese e mezzo Di delirio Anti-Juventino Di delirio